Noi abbiamo confermato le nostre perplessità, siamo disponibili a ospitare bambini, donne che scappano e persone che scappano dalla morte, dalla fame, dalle guerre, ma non sicuramente persone che arrivano qui in perfetta forma fisica con l'iPhone e le cuffiette. Due su tre non sono profughi. Dall'altro si è anche chiarito una volta per tutte che è inutile invocare il coordinamento della regione quando per legge non è previsto, ma soprattutto sono oggi a invocarlo coloro che sei mesi fa accusavano la regione di aver dato assenso a particolari quote. La situazione si è chiarita perché l'Anci definitivamente finalmente ha presentato un documento nel quale ha chiesto alle prefetture di indicare un numero di immigrati per ogni comune. Per cui è la prova approvata di quello che ho sempre detto io, se i comuni vogliono organizzarsi sono in grado di farlo, se non lo vogliono fare è perché hanno scelto l'ora di non farlo ma non per colpa della regione.